Continuiamo a parlare di Catalogna perché nel corso del suo intervento l'eurodeputato della Lega Nord Borghezio ha invitato la nuova Presidente di turno del semestre europeo, ovvero il Presidente Greco Samarassa a sostenere il referendum della Catalogna per l'indipendenza. Sentiamo. Il Presidente della Catalogna ha rivolto una lettera al Presidente Barroso chiedendo il sostegno di tutti i leaders europei al diritto della Catalogna a poter far celebrare il referendum sull'indipendenza della Catalogna. Io le chiedo di appoggiare questa richiesta che viene dalla Catalogna e che non può essere disattesa dalla Grecia culla della libertà e della democrazia. Le chiedo, avete le idee chiare sul futuro economico e finanziario dell'Unione Europea? Vi rendete conto che dall'UE con la linea rigida dell'austerity sono venuti solo vincoli che hanno annullato il principio di sussediarietà che è tuttavia la base dei trattati? E poi immigrazione. La Presidenza greca ha una grande occasione come Paese direttamente interessato ai flussi, all'invasione spesso degli immigrati, a regolamentare una distribuzione specialmente per l'asilo fra tutti i Paesi, si devono rendere conto che noi Paesi limitrofi del Mediterraneo abbiamo questo grandissimo problema e poi selezionare gli arrivi e stroncare attraverso Frontex il commercio immondo del traffico dei clandestini.